Buonasera signori, siamo qua stasera alla 38esima Fiera Agricola della Bassa Bergamasca presso lo stand BCC Treviglio con il Presidente Giuseppe Fattori. Buonasera Presidente. Buonasera a tutti. Ieri, mercoledì 24 aprile, si è celebrata l'inaugurazione del nuovo polo fieristico. Ritiene che questa inaugurazione, questa nuova costruzione sia strategica per la città di Treviglio? Assolutamente sì, perché sono almeno tre anni che stiamo aspettando perché è una fiera, dalla fiera agricola anche alle altre fiere, che aveva bisogno di uno spazio coperto di 1500 metri e finalmente è venuto pronto, quindi siamo felici tutti e ci sono già diverse iniziative che verranno fatte in questa zona. E ritiene che questa struttura sia anche strategica per il campo dell'agricoltura? Assolutamente, perché possiamo fare delle piccole fiere di agroalimentare e altre cose, comunque è una cosa che la stavamo aspettando. Grazie mille Presidente.